Acqua, energia per la vita. È da questa certezza che nasce AquaPlus, un programma realizzato dai distretti 2041 e 2042 del Rotary in partnership con Expo 2015, con AVSI e con l'Università di Milano, che si pone come obiettivo l'attuazione di un modello durevole e sostenibile per risolvere i problemi di sicurezza alimentare nelle aree agricole disagiate del mondo. La prima area di intervento, il progetto pilota, nasce ad Haiti nel 2010, dopo il tremendo terremoto che ha causato lo spostamento di migliaia di profughi verso le zone rurali, accrescendo così un'emergenza agroalimentare già preesistente. Il programma si sviluppa in tre fasi iniziali che prevedono fin da subito il coinvolgimento e la formazione della popolazione. La prima fase, dare acqua sana per l'alimentazione e sufficiente per le coltivazioni agricole, è stata completata con 10 chilometri di acquedotto e 47 fontane e, quel che più conta, il sistema di alimentazione idrica della zona è gestito con efficienza e competenza da un comitato locale. La seconda fase, che prosegue autonomamente, ha avviato, grazie alla collaborazione tra la Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Milano e la locale Università Notre Dame di Haiti, la formazione di esperti agronomi ed insegnanti, al fine di educare gli agricoltori ad utilizzare al meglio le potenzialità del suolo. La terza fase ha realizzato e avviato l'unità di trasformazione, che dai raccolti dell'agricoltura locale realizza prodotti alimentari che entrano nella rete regionale dei mercati. La gestione di questo processo è affidata alle cooperative degli agricoltori, che forniscono la materia prima e che possono quindi trarne beneficio economico. Da giugno 2014, in linea con i programmi di World Food Program e Programme Nacional Moringa di Haiti, è stata avviata una quarta fase, che prevede lo studio e la produzione di integratori nutrizionali per l'infanzia basati su una pianta, la moringa oleifera, che cresce bene e rapidamente nei climi caldi ed è estremamente ricca di vitamine, minerali e proteine rispetto alla maggior parte della frutta e dei legumi. La ricerca in corso prevede l'integrazione dei cibi a base di farine tradizionali di mais, manioca e sorgo, contrito di foglie di moringa oleifera, al fine di conferire agli alimenti per l'infanzia le proprietà nutrizionali definite dalla OMS. Attraverso programmi di sensibilizzazione, AquaPlus introdurrà questi prodotti presso le comunità rurali, alle madri e alle donne in gravidanza. AquaPlus è un modello per uno sviluppo duraturo e sostenibile delle comunità rurali del mondo. AquaPlus è acqua più agricoltura, più nutrimento, più innovazione, più salute. La ricerca in corso prevede l'integrazione dei cibi a base di corso prevede l'integrazione dei cibi a base di